Oh mio Dio, non si sente bene Marco. Giovanni, puoi fare qualcosa? E ho chiamato la tubulanza, dovrebbe arrivare fra 5 minuti. Oh, digli che fa presto, mi sto preoccupando. Dottore, dottore, non si sente bene, può essere ricoverato? Certo, può essere curato. Allora, datemelo, vi prego, faccia presto, non vi preoccupate, subito facciamo. Collega, abbiamo un caso, un bambino di 4 anni che sta rischiando la vita, mettiamolo. Allora, dobbiamo operarlo, mi deve aiutare, ok, iniziamo. Allora, prendimi la siringa. Ok, fatto, bene. Cati, sei sano e salvo. Signorina, il vostro fratellino è sano e salvo. Grazie, dottore, veramente grazie mille, non so come ringraziarla per tutto questo. Non c'è nulla, non ti preoccupare. Yeah, sono contentissima, anch'io, anch'io a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.